Salve, sono Paolo Merechelli, noto critico cinematografico e se non mi conoscete significa che siete dei trogloditi. Lo scorso mese avevo lanciato una sfida un po' folle per la realizzazione di un corto che aveva per soggetto un grattaschiena. Mi sono arrivate ben sei proposte che intendo condividere con voi. Una di queste diventerà un film che io stesso finanzierò. Vediamola prima. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Redimiti. Allena le tue sofferenze. Basta così, basta così. Passiamo alla prossima. Tutti i giorni la stessa dannata storia. Devo indossare una maschera per sembrare normale. non che su Trappist fosse troppo mei la situazione, chissà, magari prima della crisi, che ha costretto molti a scappare, me compreso. vedrai che brava gente sulla terra, dicevano, 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 dicevano. rispettosa di te e del tuo lavoro, dicevano. grazie. mi scusi. lei. lei. si 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 lei, venga, venga, venga. si amicina. questo caffè fa cagare, 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 cagare. ma, meno male che ho portato questo. no, 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 non ci siamo. vediamo la terza. non ci siamo. Aaaaaah! La prossima! Chi sarà quest'ora? Lorenzo, che ci fai qui? Ciao Francesco, ho bisogno di parlarti. Vieni, entra. Per essere qui a quest'ora deve essere una cosa seria. Accomodati. Allora, dimmi pure. È che sono un po' incasinato con Mary. È da giorni che non ci sentiamo e... non so neppure dove possa essere in questo momento. Sono preoccupato. E perché lo dici a me? Perché tu la conosci bene. Pensavo che ti avessi detto qualcosa. Assolutamente no, se no te l'avrei detto. Ma hai provato a chiamarla? Sì, certo. Ma non l'ho vista. Ho provato di tutto. Ho provato a scriverle, a telefonarle, ma... niente. Ho paura che abbia un altro. No dai, non pensare male. Magari è un periodo no, ma a Mary ti vuole bene. Vedrai che si farà sentire. Che ci fai con quello? Secondo te è un grande schiena. No, vabbè, mi sembrava... ma lascia perdere. Grazie mille, sei un amico. È andato via? Sì, sì, tranquilla. È andato via? 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Te l'avevo detto di non aprire la porta. Sono quasi pentito. Ma meno male che ce n'è soltanto un'altra. Buongiorno, questa novità ora? Hai fatto serata ieri sera? No, no, fra, sta zitto, guarda. Ho la testa che mi scoppia, eh? È come se una mandria di rinoceronti mi spiaccicasse il cervello. Ma sta zitto un cazzo, guarda cosa c'è scritto sul muro. Sono due mesi che non dai gli esami. Cosa credi che non vada a controllare? Fatti aiutare da Gianluca Rodolfo, che sei un pannullone. Gianluca Rodolfo Caro Gianluca Rodolfo, ho sempre amato il tuo nome. E credo che mamma e papà te lo abbiano dato proprio con tanto amore. Azzeccandolo anche a quello che è il tuo carattere così servile, amorevole, così... Maicon, Maicon, noto che ti comporti in modo parecchio servile. Segno che ti serve un favore? Io... Dimmi, caro fratello, di cosa hai bisogno? Io ho un esame fra due giorni e non l'ho studiato niente, niente, niente. Se tu non te la fossi sempre spassata, a quest'ora avresti anche la laurea. Comunque va bene. Ti aiuto. Ah, c'è un pacco per te. Ah. Boh. Guarda ma che cosa mi ha regalato. Boh, dice che serve per lo studio. Mi aiuti? Purtroppo è una va scelta. E allora scelgo la numero... Purtroppo è una fuori che... Grazie a tutti.